Il padre Giorgio Simeon, che io immagino possa essere ascritto sotto quelle parole che ci offre la scrittura, facciamo l'elogio degli uomini illustri. Io penso che il padre Giorgio sia per davvero uno di questi uomini illustri a cui fa riferimento la scrittura, che ha vissuto la sua vita come dono, come servizio lungo, bello. Abbiamo celebrato il sessantesimo qualche mese fa per il regno di Dio e oggi celebriamo la sua nascita al cielo, è la nostra terza nascita. Noi nasciamo dal grembo di mamma e poi rinasciamo dal grembo della chiesa, il fonte battesimale e quindi poi nasciamo alla pienezza della vita. Ecco, quindi noi oggi celebriamo la vita piena di padre Giorgio. Questo mi sembra importante, questa prospettiva di padre Giorgio che in qualche modo ha scandito la sua vita con la crescita di questa comunità. lui è stato qui agli inizi, poi è tornato per un altro lungo periodo e poi è tornato fino ad oggi e da qui alla Gerusalemme. Viva Dio e Sangalo! Viva Dio e Sangalo! Viva Dio e Sangalo! Viva Dio e Sangalo! Viva Dio! Piano, piano! Piano per favore, piano! Pianissimo per favore, non tirate forte! Piano! Piano. Piano! Piano, piano. Piano, piano! Pianissimo per favore! Piano. 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 Piano! Piano! Piano.